La nostra vita è informata alla comunità giustizia di Marte del mondo intero per il rato chiedere e commemorare il Dio internazionale di Rion. Il Parlamento di Aruba è un'unità di Saki Awe, un'unità di giustizia di Merdia, a brindare con un glasso di acqua. Awe è il Dio mondiale di Rion e recentemente abbiamo visitato nel Parlamento di una commissione di IMSAN, che abbiamo presentato un'unità di Saki, un'unità di Saki, il Parlamento non è presente per aver informato come sul caso e anche brindare con l'acqua e d'orca a questo giorno, in specialmente il World Cattney Day. È per il Parlamento non è presente per farlo simbolicamente un'unità di Riesse, un'unità di rinforzamento per concienzire la nostra comunità e la nostra presentazione e la nostra regione e l'unità di Cattano. Ora qui simbolicamente non sta dare un glas di agua per riconoscere il dia e con concientizzazione.